Buongiorno bambini, quest'oggi volevo seminare con voi. Siete pronti? Bene, quello che ci serve un innaffiatoio con un po' di acqua, un vasetto chiuso e un vasetto forato. Li mettiamo un dentro l'altro così e lo prepariamo qua. Prendiamo un po' di terriccio, io l'ho preparato in questo sacchetto, lo versiamo nel nostro vasetto, così. Ok, lo sparpagliamo per bene, cercando di fare anche un po' un buchino, lo spazio per i nostri semini. Ora prepariamo i nostri semini di girasole, guardate proprio, ne bastano pochi, così. Li mettiamo dentro, copriamo un pochino il nostro buchetto, ecco, e ora andiamo a bagnare. Bene, metteremo il nostro vasetto al sole e fra qualche giorno vediamo se è spuntato qualcosa. A presto!